meno due meno due ragazzi al secondo po no vabbè io non ci posso credere che partita che partita abbiamo visto che primo tempo stratosferico veramente Frosinone non ha avuto scampo non ha avuto scampo abbiamo giocato una partita stratosferica io non so se l'avete vista è stata una giornata di serie B che ci è andata praticamente tutto 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 bene il Palermo ha pareggiato l'Empoli ha pareggiato che stava anche perdendo se non mi sbaglio anche il Bari ha pareggiato per cui tutto tutto ci è andato bene adesso siamo solamente a meno due punti dal Palermo che è secondo cioè vuol dire siamo a meno due punti dalla qualificazione diretta non è ancora già tutto fatto per niente per niente però abbiamo fatto una rincorsa impressionante ragazzi se pensate a qualche video fa in cui andavamo a perdere 4 a 0 contro il Palermo e tanti dicevano che era compreso io ovviamente che si metteva male addirittura per i playoff siamo arrivati a meno due dal secondo posto io purtroppo ho visto soltanto il primo tempo veramente è stato il migliore primo tempo che abbia mai visto quest'anno sicuramente verticalizzazioni gioco di squadra grinta aggressività il pubblico in delirio tantissimo tra l'altro il pubblico spettacolare io volevo essere lì purtroppo tra l'altro avevo quasi comprato i biglietti purtroppo mi chiamano a lavorare perché sapete che io ho il contratto a chiamata mi chiamano a lavorare perché ci sono persone in malattia voi non avete idea diciamo della rabbia che ho avuto mi sono riuscito a far mettere però la pausa almeno per guardarmi il primo tempo nel secondo tempo sono dovuto correre purtroppo a lavorare ma mentre lavoravo guardavo nella sezione televisioni guardavo mi sono fatto proprio spostare perché io lavoro in telefonia mi sono fatto spostare i tv soltanto per poter guardare un pezzetto di partita perché è veramente in estasi pazzesco mentre i clienti passano dicevano ma cosa diresti di questa televisione guardi signora non questa dove c'è la Juventus contro il Beneventus c'è quest'altra bellissima ma guarda che costa di meno è bellissima guardi che bella partita guardi 2 a 0 bellì guardi come si vede bene ecco è stata così diciamo la mezzuronata io ero esaltato ma è normale ragazzi è normale da tifoso sto vedendo cose pazzesche esattamente come è successo l'anno scorso che poi in realtà è diciamo Roberto D'Aversa il nostro allenatore praticamente è così ok mi sembra di aver capito io l'ho criticato quando c'era da criticarlo e lo difendo adesso che lo devo difendere giustamente perché in tanti dicono di tifosi eh ma adesso voglio vedere la gente che sale sul carro adesso voglio vedere chi è che critica D'Aversa quando c'è da criticare D'Aversa io l'ho criticato si critica D'Aversa così come la squadra in generale quando c'è da fare i complimenti si fanno i complimenti D'Aversa secondo me è un uomo da ultime giornate è un uomo da torneo da champion non so come per farvi capire è uno da scontro diretto ecco negli scontri diretti D'Aversa difficilmente sbaglia e mi vado a toccare perché non si sa mai che vado a sbagliare gli ultimi che sono i decisivi credo che riesca ad invogliare la squadra alla perfezione soltanto nelle piccole partite nelle poche partite in quelle più importanti non nel lungo nel lungo fa fatica a reggere tutto ma ci può stare ecco ci sono allenatori e allenatori io credo che D'Aversa esattamente come l'anno scorso con i playoff stia rendendo al meglio e stia facendo rendere al meglio la squadra ragazzi verticalizzazioni gioco spettacolare abbiamo trovato un Calaiò che ha 34-35 anni quanti ne ha veramente un mostro sembra un mostro ed è l'attaccante che stavamo cercando ragazzi anche oggi non ha segnato ha segnato Di Gaudio che finalmente va al gole va alla doppietta però ragazzi che partita ha fatto Calaiò veramente stratosferica io sono esaltato però devo stare con i piedi per terra così come tutta la squadra e dobbiamo ancora ancora dimostrare ma il che vada andiamo a fare i playoff quello va bene e li vedo bene i playoff se giochiamo così se giochiamo così li vedo bene però a questo punto perché accontentarsi siamo a meno 2 dal secondo posto vuol dire meno 2 dall'accesso diretto ovvio l'Empoli ormai è andato l'Empoli ormai è andato però non possiamo sputtanare questa rincorsa che stiamo facendo c'è la possibilità andiamola a prendere non ci dovessimo riuscire ma il che vada ragazzi andiamo a fare i playoff e li andremo a fare al meglio il meglio possibile ecco andiamo a farli non so come dirvi al 100% ma il che vada andiamo a fare i playoff e poi vedremo ecco l'annata è andata male all'inizio ora però abbiamo la possibilità di recuperarla abbiamo la possibilità di non sputtare tutta l'annata soltanto nelle ultime partite perché la Serie B è molto 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 più equilibrata di quello che si pensa e ce la si può fare davvero ce la si può fare io ci credo ma il che vada ragazzi andremo a fare i playoff però dai siamo a meno 2 meno 2 ce la si può fare ragazzi commentate qui sotto scrivendomi che cosa ne pensate e raga sono esaltato che devo dire sono veramente troppo esaltato grazie a tutti